Vorrei sottoscrivere se l'On. Duva consente l'ordine del giorno che è pressoché identico a quello che ho presentato circa un mese fa alla legge di bilancio, per cui a rigor di logica vorrei sottoscrivere lo stesso ordine del giorno a cui però il Governo ha dato parere contrario in quella circostanza, stranamente. Onorevole Duva Certamente accetto, va detto che non è identico perché qui si parla di una norma generale e nazionale e non si parla di questioni territoriali.